Io sono Lucia e anni fa ho avuto un intervento al seno e mi ha creato un po' di problemi, specialmente alla spalla e al braccio. Che cosa tu hai avuto? Io sono stata operata per un tumore del seno e ho fatto la chemioterapia e anni fa è andato tutto bene, però mi ha lasciato qualche problemino alla spalla con l'operazione e al braccio destro. Ho provato questa cosa con il lettino solo e subito ho sentito proprio questa parte che sono stata operata che era completamente sottata da spalla tutta la parte destra. Poi dopo ho fatto l'apasone e il trattamento ho sentito che la parte si è rilassata, si è ammorbidita e mi sono sentita distendere la schiena, rilassare la schiena come se mi e mi rincia su tutto. Bene grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a tutti.